Ciao a tutti, io sono Lenny e ho fatto il corso di editoria di Giulia Vesa. Ho trovato il corso estremamente utile e interessante perché ti apre le porte a un mondo e ai suoi retroscena che chiunque voglia scrivere un libro, ma anche lavorare come editor o ricoprire un ruolo comunque nell'ambiente editoriale farebbe bene a conoscere. Giulia ha una lunga esperienza che va dalle piccole e medie case editrici fino a quelle più grandi e importanti del nostro paese e ci guida passo dopo passo in tutti i processi che ci sono dietro alla creazione di un libro dal suo concepimento fino alla pubblicazione, all'arrivo sugli scaffali dei negozi spiega l'importanza della giusta sinossi, della giusta copertina, del giusto titolo spiega come cercare un agente letterario come non farsi fregare dalle case editrici a pagamento come approcciarsi a tutte le figure con cui si viene in contatto quando si scrive un libro come un editor, un correttore di bozze porta anche esempi concreti raccontando le sue esperienze personali gli errori che ha fatto, quelli che ha evitato spiega come ha fatto un contratto editoriale e un sacco di altre cose che non posso dirvi insomma perché sono all'interno del corso quello che posso aggiungere io personalmente è che lavorando come libraio comunque ho riscontrato nella realtà le cose che Giulia spiega nei suoi corsi quindi il mio consiglio è che se veramente volete entrare in questo mondo il corso di Giulia vi può essere di grande aiuto veramente è un corso fatto bene grande sia nei contenuti che nella durata anche perché è bello lungo ma è completo c'è dentro praticamente tutto quello che vi serve sapere è una miniera d'oro quindi il mio consiglio è di farlo veramente senza nessuna riserva non fatevi scappare questa occasione ecco